Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale e siamo qua sulla versione JAP con l'account secondario per andare ad affrontare una Super Battle Road E la Road Super l'ho già affrontata in live, solamente che era successo un macello Non vi perdete le live, ricordatevi il link in descrizione, live alle 21, quasi ogni giorno, su Twitch, ragazzi Andiamo a riaffrontare questa Road Super con il Team Pure Seiyan, come potete vedere... Sì, c'è Goku LR Tech, perché di Tech migliori non ne ho, quindi andiamo di Goku LR Tech Detto questo, ragazzi, partiamo subito con questa Super Battle Road Andiamo a vedere un pochino se ce la possiamo rifare tranquillamente Non sarà mai divertente, ma lasciamo perdere, abbiamo Goku LR Tech Non è il massimo dei PG Oh, primo turno ci è capitato anche bene Vegeta che gira un po' meno, perché il turno dopo è brutto, però dai, il primo turno Vegeta Super Saiyan 3 Subito tanking, vediamo dove ci attaccano di più Direi che al primo posto ci attaccano di più Assolutamente! Vediamo anche, qua è il vero problema Vegeta CTR Niente, non ci vado in special, devo sperare nell'add, perché comunque gli ho dato add nella build Devo sperare negli add per uno stun Dobbiamo ottenere un po' di Ki-AGL Ki-AGL per Goku Super Saiyan 4 Molto obbligatorio, molto 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 obbligatorio, ragazzi Eh dai, questi 3K ci vanno bene, vabbè, Vegeta Evo non va in special, amen Ce ne freghiamo, ragazzi Ce ne freghiamo assolutamente Usiamo Whis per ora e va bene così Abbiamo 3 Ki-AGL per dopo, 3 Ki-Int, quindi mandiamo in special anche Kid Goku A posto, perfetto, ragazzi Iniziamo veramente bene questa road Le special tutte su Vegeta è una cosa buona, eh, lo dico Additional Oh! Vegeta Sama! Attenzione! Siamo partiti veramente bene alla fine, eh Eeeh! Anche lo stun! Ok Ok, ragazzi, questo mi va bene, questo mi va bene Ci sta, ci sta Perfetto Ah, questa fa male! Aiaiaia! Quella fa male, quella fa veramente male Eh, il Friend Vegeta Evo è ability 0 Sì, non è il massimo, eh, ma Lasciamo perdere Lasciamo assolutamente perdere Allora, visto che qua possiamo fare questa cosa bella Ah, però, cavolo Ci attacca una volta il tech Se non è una special mi va bene Sì 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 certamente Abbiamo tutto il chi fisico per dopo ci va bene Ok 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 andiamo così Non è solo lo special grazie Quello fa sempre male Quello fa sempre male Abbiamo Vegeta Super Saiyan 4 che però ancora non c'è nella turnazione È un po' una noia perché ci serve tanto Anche per tankare in realtà Che è morto Perfetto lui è morto Va bene così Va bene in questo modo Vediamo un po' Ciao Kid Goku Ciao Kid Goku Stannini Wow perfetto ragazzi Ci sta girando da dio questa road Mamma mia Ok teniamolo primo ovviamente Però qua non puntiamo lo stun Questa è l'unica rottura di scatole E questo Kia GL in realtà Lo teniamo Non andiamo in special ora Lo teniamo perché Dopo Goku Super Saiyan 4 Deve andare sempre in special Finché non abbiamo Vegeta che gira Un po' una noia ragazzi C'è poco da fare Speriamo sempre nell'additional Se lo fa è Gesù Ok vabbè dai Ma va bene comunque Mi hai già fatto la roba di Gesù prima Va bene comunque Vegeta Evo intanto Non tanto danno Uh le prende però eh Uh Ah che male Questo fa malino Uh Uff Ah questa road fa male Fa male dentro ragazzi Io ve lo dico Active skill Potrei Sì in realtà potrei fare una cosa ragazzi Bombardiamo subito Vegeta Con le due active skill Eh Vegeta scusate Frieza Bombardiamolo subito Perché Qua siamo a rischio Siamo veramente a rischio A fine dei conti Con il team Come è messo Che non è Non ha molta ability ragazzi Abbiamo un attimo Un team un po' deboluccio Vai Goku Kid Lo bombardiamo subito Con le due Le due special E vediamo un po' Anche se non va a fare Troppi danni però Va bene comunque Dai Va bene comunque Goku Hai crit Tira un crit Grazie Fallo Goku Fallo Tirami un bel crit Dacci una mano In questa road Sei un componente chiave Di questa road Goku Sappilo Ok va bene comunque Dovremmo comunque Riuscire a ucciderlo Ora Sì dovremmo riuscire Comunque ad ucciderlo Sotto l'item Sì sotto l'item Sì Ok facciamo in questo modo Mettiamo Goku primo Ci lancia la 18 E dopodiché Andiamo di ottone Non è il massimo ottone Però È uno dei pochi item Di cura che possiamo Sfruttare al momento Goku Kid Anche lui Ci attacca Frieza E Con Sì Con Vegeta e Evo Attacchiamo L'STR Facciamo in questo modo Prendere un po' di danni Niente special Bene ok 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 Dobbiamo stare attenti sul tech Su quello Assolutamente attenti Dobbiamo però sperare Anche nei crit Perché finché non c'è Vegeta Goku non può fare molto Non è Aaaaa Ta 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 Fa male Cavolo Avevo appena ripristinato Tutta quella vita Che cavolo L'avevo appena ripristinata Dai Perfetto lo stan Buono Ok 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 Ci sta Ci sta ragazzi Perfetto in questo modo Ci è andata comunque bene Abbiamo stannato Frieza GL Dopo lo possiamo uccidere Tranquillamente Tanto Frieza Evo Non dovrebbe prendere Troppo Sì dai ci sta Ok Vegeta si trasforma In Super Saiyan 2 Finalmente Cavolo è il tuo primo turno Vero La morte Allora Ci sarebbe solamente lui Che però Facciamo in questo modo Facciamo in questo modo Facciamo assolutamente in questo modo Ragazzi Tanto Lui è stannato Ce ne freghiamo E con i pugni Andiamo qui Sì però Cavolo Rischio la morte Ragazzi Ve lo dico Rischio veramente la morte Se quel primo colpo Fa tanti danni Rischio la morte Su Goku LR Io lo so già Però è rischioso Devo per forza Fare in questo modo Ragazzi È un po' una noia Ok 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 Ho 130.000 HP Se l'STR non ci fa la special Siamo a posto Siamo a posto ragazzi Se non ci fa la special Siamo a posto Speriamo solamente Ecco Speriamo solamente Buono la stannato Oh l'additional Bustatino anche Lo possiamo uccidere Secret lo possiamo anche uccidere È morto? Lui muore Ok Ok è morto A posto Perfetto Non dobbiamo sprecare Item qua ragazzi Non dobbiamo Sprecare item qua Che ci va anche bene Ci va anche bene Molto bene in realtà Wow Abbiamo avuto Un po' di fortuna In quello che è stato Un po' la sfiga Iniziale delle rotazioni Dai Non siamo andati A sprecare troppi item Ci sta ragazzi Va bene A posto Accettiamolo Ci sta Bravo Vegeta Anche se non serviva Che c'era la La 18 di Goku A posto così Va bene Perfetto È andata la prima fase Ci vuole un po' di calma Con questo team Ma si fa A posto Seconda fase Iniziamo però Subito con Vegeta Poca vita Quella è la cosa Che mi annoia Dipende dagli attacchi Che ci fanno Però sono tanti Sono tanti Qua è dura Qua è veramente dura Ora Goku Kid Possiamo Anche lanciare un active Appena entra in gioco Quello Ok Vediamo un po' Come va Ok D'accordo 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 Va benissimo Andiamo Ci curiamo Ci curiamo Attualmente Ci curiamo Sì perché È là sotto i colpi Sinceramente Non voglio andare Non voglio giocare Di fortuna C'è comunque un tech Che ci farà tanti danni Ma mi va bene Perché in questo modo Potremmo E dico potremmo Attivare L'active skill Appena arriva Goku Che è una cosa Che in realtà Ci va molto bene Attivare subito L'active skill Vegeta Evo Sì E l'altro Vegeta Evo Invece Vabbè che ability free Ce ne sbatte La cosa Attacchiamo Magetta Sì Andiamo in questo modo Ragazzi Andiamo in questo modo Vediamo un pochino Allora Vegeta Super Saiyan 3 Per ora hai fatto Un'ottima run Se vuoi continuare Fai pure Sei un grande Ok Sei un grande Sei un grande Fine Che devo dire di più Ragazzi Mamma mia Vegeta mi sta salvando In questa road Mi sta facendo Completare questa road Più che altro Con tutti questi Stannini tattici Ci sta Allora Vegeta Evo Un additional Ver e proprio Invece dei pugni No Un additional Ver e proprio Sti pugni Maledetti pugni Maledetti pugni Ok Oh Goku Ok Sì no Ci sta bene La sotto Potremmo anche Allora Con Vegeta Super Saiyan 4 Pensiamo ad eliminare Magetta Invece con Goku Che lo possiamo mandare In 18 Proviamo ad eliminare lui Dai proviamo ad eliminarlo Mamma mia Che schifo Vabbè È colpa che mi porto Goku Tech Sì vabbè Lo so Lo so benissimo Lo so E lasciamo perdere Vabbè Sperchiamo tutte queste orbe Mandiamoli in 12 Proviamo a ucciderlo Anche se è dura È dura Devo sempre andare in 18 Con In 18 Scusate In 12 Chi con Vegeta Super Saiyan 3 Quello è importantissimo Perché ci salva Ah niente additional Oh il counter Ce lo uccide così Vai Vegeta Vai così Grande Vegeta Super Saiyan 4 Fatti sentire Grazie Lui è morto Il Doc Amod Quanto è Ho paura Doc Amod Potrebbe arrivare a breve Mi servirebbe da rosè Eh Devo essere sincero Eh Sarà dura ucciderlo Questo turno No I pugni No Ah Ahia Goku LR Eh Sei abbastanza inutile Niente active skill di Goku Questo è un problemone Anche serio Però andiamo comunque Sempre in 12 chi Quindi questo ci va bene Eh Vegeta 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 Io pensavo di ucciderlo A sto punto Però abbiamo Tante orbe Facciamo questo colpo È meglio Cavolo non andare in special È brutto perché ci attaccano molte volte Ok Fammo una roba Usiamo una Kiki Non mi fido di Goku Là sotto È la cosa più noiosa Come orb Per dopo Non abbiamo tante Anche quello Eh Usiamo questa singola Orb Sì Andiamo in questo modo Ragazzi Facciamo così Facciamo in questo modo Non mi fido troppo Di Goku Kiki Avevamo ancora le Kiki Le usiamo ora Stannino E là Vegeta Super Saiyan 3 Ogni cavolo di colpo Uno stun Sta facendo assurdo Mamma mia Grande 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 Vegeta Ok Allora Buono Lui che si trasforma Ci sta anche tanto In realtà Buonissimo Perfetto Si è trasformato Bene Perché alla fine Fa di più Offre di più Però qua Stiamo andando In Dokkan È un problema No Non più di tanto In realtà Se andiamo in Dokkan Ora non è neanche Tutta sta roba malvagia Anzi Ci va anche bene Se ci andiamo ora Non è malvagio La situazione Però sarà dura Sarà molto duro Andarci ora in Dokkan Se Ci dobbiamo andare dopo Eh Questa è già più malvagia Come situazione Questa è malvagia L'item L'item Fatto la cavolata Fatto la cavolata Aia Fa male ora Niente special Grazie Ok Ok Calma il sangue freddo Ho fatto una cavolata Mi merito di averla fatta Quindi Ok Calma Calma Me la sono giocata male Me la sono giocata molto male Questo è vero Rip Dovevamo uccidere Quel cavolo di Bottamo Del cavolo Ok Un po' di crit Ce l'hai Lo sai Vero Special con crit Eh Anche no Va bene Tranquillo Non c'è problema Non c'è problema No Super Saiyan 2 Cavolo Lo vedremo mai in God Cavolo È dura È dura veramente Vedermi in God Vabbè Facciamo in questo modo ragazzi Andiamo così Andiamo del suo Dockham mode Facciamo in questo modo Perfetto E direi che quello che in realtà Ci rompe di più attualmente Cabaketech È l'unico che in realtà Ci rompe le scatole Fammi in questo modo Vediamo un po' di O eliminarlo O stannarlo Vediamo così Perfetto Dockham mode Non è il massimo Averlo lanciato ora Eh però Vabbè Sarà dura Tirar giù Rose ora Sarà un po' dura Tirar giù Rose Ve lo dico È duretta Tirar giù Rose ora Però Con Vegeta Super Saiyan 3 Stannare Si può fare Dai Dai C'è un po' di chance Dai Possiamo farcela Con la calma Ce la si può fare Non è tanto danno Però Dovrebbe essere morto Almeno Un PG Quindi siamo posti Per quello Se non lo stanna Ok Niente A diciamo ok Se non lo stanna C'è la Goku Secrita Un po' di danni Dovrebbe essere morto Ok Questa è una GL Ce ne sbattiamo Fondamentalmente Sono sempre danni Quelli eh Ok eh No problem Tranquillo Ma sai che ti dico Perché tanto Ora non ti rivedo più Io non voglio Quegli attacchi iniziali Quindi si Lo facciamo Non è Non è propriamente Sprecato Lo facciamo La usiamo E basta Abbiamo anche L'Active Skill L'Active Skill Di Goku Ok Si Dai Ce la si può fare Con difficoltà Un attimo ora Perché la fase Di Rosè Sarà dura Però ce la si può fare Pam Addio Kabba Esplodi male L'intestino È tutto Tutto a pezzi No in realtà Non andiamo neanche Di Active Skill Usiamo le Orbe Qua va Che facciamo prima Facciamo in questo modo Andiamo Andiamo così ragazzi Lo dovremmo uccidere Con la special qua 3 milioni di special Si dovrebbero bastare Alla fine dei conti Goku Goku dovrebbe Crittare un po' di più Ecco È l'unica cosa Che deve fare Un pochino di più A crittare Perché ci serve Veramente tanto Ragazzi ci siamo Rose Time Vediamo un attimino Il ki Dobbiamo provare A stannarlo subito Obbligatorio Abbiamo ancora Degli item Quindi siamo a posto Per quello Per come ci attacca Ci va anche bene Per come ci attacca Ci va anche Troppo bene Chi è l'unica Grande pecca Che abbiamo Attualmente ragazzi Il ki È la nostra Grande pecca È una pecca Questo è una pecca Ragazzi Devo giocarmela In questo modo Assolutamente Sperare Nell'additional Come ho fatto prima Alla fine dei conti È l'unica cosa In cui posso sperare Ragazzi È l'unica Non posso fare altro Attualmente Ci è girato un po' male Stavolta Il ki Ci ha abbandonato Peccato Peccato No però L'assolto Vegeta mi muore Noite Muoio Andiamo di wish Ok dai Facciamo in questo modo Facciamo in questo modo Peccato Il doc Il doc Peccato Ah no Sono andato in special Con Vegeta Non stavo guardando Ok Va bene Chi se ne frega Là sotto però Siamo a rischio Vegeta Fai quello che hai fatto Per tutta la run intera Fallo Ti prego di farlo Hai fatto delle ottime Robin run Fallo Ci ha abbandonato Vegeta Ci ha abbandonato Peccato Questa Uh L'additional Buono Peccato Questo è un problema Ci ha abbandonato un attimo Nel momento del bisogno Ci ha mandato a fare In quel posto Vegeta 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 Vedi di stannare al prossimo turno Che ritorni Perché mi serve una mano Non mi fare special Grazie Che ne prende Ok Va bene Uh Ok Calme sangue freddo Mettiamo Vegeta Primo Siamo ancora sotto L'effetto di Whis Quindi Sì a posto Stiamo così Sì 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 Facciamo questa cosa Whis Non ci aiuta Là sotto Cavolo Non l'ho visto Goku Goku LR Cavolo Sono tanti attacchi Della GL Quindi Ok Ci sono quei due colpi Int che mi fanno Molta paura Ho paura Ho molto paura Di quello che potrebbe Succedere in questo turno Ragazzi Qua Rischiamo Se devi fare Una special Falla con l'int Falla qua Su Goku Che ci può Scansarla E tirarti indietro Una bella botta Ok E così Non te la scansa Però Questo fa male Che male Che male Madonna Abbiamo l'activity skill Di Goku Questo ci va bene Sempre stannino Buono anche questo Andiamo anche in special A posto Ok Allora Zamas Beccati sto pugno Di Goku Usiamo l'item Ovviamente Non andiamo tranquilli qua Uff È stata dura È stata dura Sopravvivere al turno Prima È stata veramente dura Special Non l'ha Non l'ha counterata Quello è un problema Prende danni Alla fine Vai Goku Pugno della morte Crittino magico 600.000 Van bene Van bene Van bene Goku Poi anche Critti È vero Adesso Critti Vieni qua Zamas Beccati sto pugnaz Beccati sto pugnaz Zamas Ok Stannino Sama L'hai fatto per tutta la run Continua a farlo Grazie Vegeta Additional Vai a quel paese Vai a quel paese Mi hai abbandonato qua Non va bene Mamma mia Vegeta Mi hai abbandonato Nel momento del bisogno Veramente Te Fatelo dire Che sei veramente Un pezzo di me Ok Vediamo se riesci a fare Comunque Quell'additional Quello che è un problema Va bene Goku Kid 900.000 Crit Saranno anche questo 600.000 Di danno Va bene Comunque A posto Vegeta Evo Si trasforma Attenzione Attenzione Vegeta Evo Si trasforma Salve Turnazione Full AGL Sì Io direi che Qua abbiamo un active skill Per la morte Di Zamas Un colpo Per ucciderli Tutti No vabbè Dai Cretino Sarebbe molto utile Su Zamasu Va bene Comunque Dai Dobbiamo farlo fuori A questo turno A sto punto E avere solo Rosè Che E meno Rompiballe Nel senso Si Il ki Però Non stiamo facendo Conto del ki Che abbiamo Qua Questo è un problema Andiamo di ki Il prossimo turno Così non dobbiamo usare Item E siamo a posto Si Facciamolo fuori Ragazzi Facciamolo fuori È tempo Cavolo quel KSTR Però Che noia Vabbè Devo andare in special Ah Ok c'è Va bene A posto Andiamo ragazzi Uccidiamo Sto Zamasu Facciamolo fuori Dalle balle Che ha rotto Completamente Le balle Via Via Dalle balle Ok Buono Counter Buono Beccati questo Pam Buono Così Vegeterevo Può colpire Rosè È buonissima La situazione È buonissima Ci sta Addio Ovviamente Deve rimanere Con uno Sputo Di vita Ma va bene Comunque Grazie Facciamo finta Di niente Quanti colpi Che erano Va bene Ok Ci siamo Vegeta Uccide Zamasu Inizia a fare Anche delle Special su Rosè Molto Molto bello Te lo dico Sti pugnetti Sono brutti Lo sai Fatelo dire Sì Belli Super saiyan 2 Cavolo Non l'abbiamo mai Trasformato in god Non l'abbiamo mai Trasformato in god Ok Qua Non ci serve L'item Perché bene o male Tancare Tanchiamo Tancare Si riesce a Tancare Stannare Non si sa Che è quella La cosa un po' Più Impossibile Stannare Forse La cosa più Rottura Qua però Il ki non è che ci va Tanto bene Ma va bene Comunque Non dovremmo usare Item go Quella è bene o male Se la dovrebbe cavare Se la dovrebbe cavare Oh mio Vegeta Super saiyan 3 Stanna Bravo Vai Finalmente Cavolo Finalmente Ok Siamo Siamo Pronti Ora Siamo Pronti Finalmente Vieni qui Prendiamo Quest'orb Andiamo così Andiamo Cos'ha con queste tre Orb Vinta Andiamo È vinta È vinta È vinta Questa roda è vinta Ragazzi Non abbiamo più problemi qua Siamo a posto Dobbiamo solamente Spirare Buono comunque Sono dei pugni Va bene Un cretino Ok Dobbiamo solo Sperare nei crit Per finirla in più fretta Possibile Dopo il prossimo turno Abbiamo ancora un'altra special Di Di cosa Di Vegeta Super saiyan 3 Vegeta si trasforma in God Poi Roba Roba dura da vedere Alle volte Si trasforma in God Ok Vai così Perfetto Metta vita Goddo Su pasai a Jin Goddo Vegeta Ok Questo turno è anche bellino Questo turno è anche bellino A noi ci piace A noi ci piace A noi ci piace Ovviamente Se vuoi stannare Nel senso È ben accetta La cosa Non fa mai schifo Sai Vegeta Fa l'ora Dai Fa l'ora Stannino No No la additional di pugni Peccato Stannino Ha funzionato È vinta ragazzi A posto così Abbiamo rifinito Questa road Super È morto Tempo Questione di pochi colpi Ok Se vuoi farla additional Sei ben accetto O O Il crit Crittala Special col crit Vegeta Evo E crittalo Con sto Oh Ciao Salve Cavolo Voglio tirare una 12 ki con Goku LR Non ci vado nemmeno Che noia Va bene È morto ragazzi Ci siamo ragazzi È morto Rosè Ci ha voluto un po' È una road comunque con l'account free to play Tutte le carte Hanno ability veramente bassa Quindi ci sta averci messo un po' di più Ma Ce l'abbiamo fatta Vai Goku Pum E Vegeta Tocca a te Vai anche te Final Shine Attacco Quel cavolo che è Distruggilo Addio Rosè Addio Road Super Road Super Ricompletata Con l'account Free to play Con questo team Mamma mia Lasciamo perdere Mamma mia Lasciamo perdere Ability Free Vegeta Ability Free Vegeta Free End Ability Free Kid Goku Non aiutano tanto Non aiutano tanto Però ci stanno Ci stanno comunque Detto questo ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fatemelo vedere Lasciate tanti Mi piace Commentate E commentate E ovviamente Considerate anche L'iscrizione Io ragazzi vi ricordo Che potete anche seguirmi Sulla pagina Facebook Instagram E Twitter Tutti i link li trovate Sotto In descrizione E oltre a quello Trovate anche il link Per Discord Ragazzi Trovate il link Di Discord In descrizione Andate a darci un'occhiata Joinate sul server Discord E infine Come ultima cosa Vi ricordo Che se volete iniziare Dragon Ball Z Dock and Battle Versione Global O JAP Con un boost iniziale Lo potete fare Con il link In descrizione Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti